Si è concluso il quinto ciclo di seminari di educazione alla legalità rivolto alle terze, quarte e quinte classi dell'Istituto Comprensivo Don Milani di Caltanissetta. L'incontro, che si è svolto nell'aula magna del plesso scolastico Gianni Rodari, è stato preceduto dalla messa in scena di una riduzione teatrale della violenza di Giuseppe Fava. Successivamente i giovani studenti hanno posto alcune domande ai magistrati presenti. A volte penso che forse possono fare più i bambini per la legalità di quanto possiamo a volte fare noi con i nostri processi. Se noi riuscissimo in questo intento difficile di inculcare il senso della legalità ai bambini, facendogli capire l'importanza dei nostri gesti, l'importanza dei gesti quotidiani, rispetto per la persona, i valori che sono i valori della nostra Costituzione, riusciremo forse in domani ad avere forse le aule di giustizia, non dico vuote, ma insomma. A portare in scena il tesso teatrale opportunamente adattato al giovanissimo uditorio, c'erano tra gli altri Giorgio Villa e Salvatore Pecoraro. A insegnare la legalità è una parola troppo grossa, perché la legalità è praticamente il vivere nell'onestà, nel rapportarsi nella società civile e quindi insegnare ai propri figli di comportarsi bene nella vita, verso il prossimo, in modo che il prossimo si comporti bene verso di te. Queste sono cose che non è che si devono insegnare, si devono tornare a fare, rientrare nella scuola. Una volta c'era l'educazione civica come materia, io mi ricordo quando andavo alle scuole medie, poi questa materia è sparita. Oggi noi l'abbiamo reintrodotta e attenzione, questi seminari che hanno avuto un grande successo, perché, ripeto, dopo tutte le scuole superiori ci siamo fatti tutte quante a tappeto le scuole medie e inferiori di tutta la provincia. Il progetto ha coinvolto oltre 200 alunni. Tutto va fatto, è misurato alla loro età. Il nostro istituto è da anni che affronta il tema della legalità a scuola, partendo proprio dai bambini, anche dall'infanzia, perché le basi della legalità sono proprio il rispetto dell'altro e il rispetto delle regole. Quindi credo che questo non è per niente difficile poterlo insegnare ai bambini.